e benvenuti in un nuovo video di Zeus game oggi faremo un tutorial su BLED o multiplayer di flash games ragazzi ve lo dico prima di iniziare sono una schiappa e ce ne saranno ne vedremo di belle cominciamo a scegliere una stecca come vedete ho zero punti una schiappa completa potrei giocare giorno e notte ma senza riuscire a vincere neanche una partita cominciamo un dilettante vediamo che questo intanto salutiamo l'avversario da gentiluomini iniziamo bene si è bucato il 15 proviamo a bucare questa che cazzo mi sto per bucare la palla non so nemmeno bene come si gioca però proviamo proviamo a mettere in buco il 4 non c'è niente da fare ragazzi entro un anno almeno voglio riuscire a vincere una partita il mio obiettivo e va in buca sono un maestro credo che se tiro qui dovrei bucarmi l'8 wow ma andiamo in buco il 7 penso che sia la giusta traiettoria bene non è così difficile alla fine ed ecco che anche il 2 con buca no cosa è mi ha bucato la palla ah no perché la palla mi si è impallato non capisco mi sa che ha perso la connessione ah ecco e va in buca oh oh mi trovo in una situazione critica proviamo a fare qualche tiro di quelli azzardati che cavolo ho fatto no sorry ehm raga non va non va sperando che prenda la connessione a questo qui shade 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 qual cavolo si chiama ah ecco ha scritto che dici bu tu che dici vediamo di mandare in buca questo bannatissimo 4 lo sto cominciando ad odiare ecco ecco che va in buca uuuuh stavo per bucare l'otto non va non va non va ci mette qui mezz'ora mmm ragazzi intanto vi dico in anteprima che faremo molti video su questo flash games ehm di minigiochi perchè ormai è questa la nuova moda non si fanno più questi lunghi gameplay di code eccetera fanno più fanno più successo questi piccoli video vediamo da quanto registro 5 minuti e 12 non voglio fare video lunghi perchè poi sai la gente si rompe ecco ormai l'otto quasi bucato penso che porco cane mi sa che azzeccare questo tiro non è facile nooo forse ho una chance nooo credo che l'uno si deve bucare alla fine almeno in questo gioco boh sta lagando da paura vediamo di mandare in buca l'otto ecco che l'otto va in buca vediamo 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 manca poco ragazzi la partita sta per concludere se riesco a vincere voglio molti pollici in alto perchè veramente per me è un un successo adesso e vai 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 nooooo ragazzi spero che con questo tiro si concluda la partita ma non ne sono sicuro proviamo a metterlo qua vediamo che cazzo cambia non ne ho idea nooo sembra che stia giocando uno che non ha la minima idea di cosa deve fare dai 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 oh ma questo mi può dare la mano a me perché siamo allo stesso livello anzi questo mi sembra un po' scarsetto nooo dichiara la buca e tira no ragazzi sono negato io ormai ormai ci ho fatto l'abitudine mi sa che ho perso eh già non ho detto l'ultima parola vediamo di bucare qui grazie ragazzi la prima partita che vinco accetta la vincita non mi dispiace eh devo salutarvi con questo video tutorial perché stiamo andando fuori tempo mi sono il cellulare eh ci sentiamo al prossimo tutorial ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.